Non è un letto, più un letto Palla che diventa buona per Henderson Empoli che prova a rientrare in una partita Meret sbaglia tutto, il pareggio di Pinamonti Clamoroso l'errore di Alex Meret Bairami prova ad approfittare nel 10 dell'Empoli Che spinge a destra, il cross dentro ancora per Pinamonti La ribalta l'Empoli con la doppietta di Andrea Pinamonti L'Empoli che ne segna 3 in 7 minuti e torna a vincere Grazie a tutti